Incontro in prefettura ad Ancona con la delegazione della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato per ascoltare gli enti e le istituzioni interessate a due aree di crisi, quella vibrata a Tronto e quella del distretto del Fermano Maceratese. Per la provincia di Teramo rappresenta il presidente Diego di Bonaventura che ha ricordato i dati non positivi del corposo dossier ufficiale sui risultati dell'intervento per l'area di crisi invibrata. Io sono stato lì per cercare di far trattenere i 10 milioni di euro ancora non spesi perché la stranezza della nostra area di crisi, che è stata riconosciuta il 10 febbraio del 2016 dove sono stati messi 15 milioni di euro per ridare impulso a quella zona sono stati presentati 13 bandi, 7 ammessi, dei 7 ammessi 3 solamente sono stati finanziati ed è grave perché quando i bandi vengono fatti farraginosi con criteri che non soddisfano il territorio la struttura delle aziende presenti, i risultati sono questi. Adesso con la regione Abruzzo ho sentito il presidente del regione Abruzzo Marco Marsiglio il sottosegretario è Febo che ha proprio la delega per cercare di mantenere questi fondi i 10 milioni di euro lì e di rifare dei bandi accessibili, dico io, perché noi dobbiamo lavorare per i territori e per i cittadini, per le aziende e le imprese che sono lì bisogna capire come mettere su un bando a dimensione di quelle aziende, di quelle zone industriali e artigianali presenti è stato un primo passo, la commissione ha notato quelle che sono le nostre richieste e adesso negli altri tavoli che avremo a Roma in regione cercheremo di recuperare anche qui una storia scritta male